Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Scoperte dalla polizia due case a luci rosse a Fano, arresti, denunce, espulsioni di clandestini Ladri devastano la sede della Confcommercio di Pesaro, bottino 5.000 euro A Sant'Orso i residenti di una via sono bersagliati dai ladri, appello per avere più controlli A fuoco una vongolare al porto di Fano, ma era solo un'esercitazione Fano Jazz by the Sea, in arrivo i big della musica e un villaggio del jazz Buonasera, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia La cronaca in apertura come di consueto La polizia a Fano ha chiuso due case di appuntamenti E prostituirsi erano donne rumene e cinesi Sentiamo i particolari nel servizio Esercitavano il mestiere più antico del mondo in due appartamenti Uno in pieno centro storico di Fano e l'altro nella zona della Sassonia Via Nolfi e Via Dante Alighieri Basta operazione contro lo sfruttamento della prostituzione da parte degli uomini Nel commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti Arrestate due persone ed altre due denunciate in stato di libertà Per il reato di favoreggiamento della prostituzione Due donne di nazionalità cinese e due extracomunitarie di 44 e 46 anni Clandestine espulse dal territorio nazionale Ed altre due rumene di 32 e 33 anni scoperte in flagranza di reato Dagli agenti infiltrati come clienti allontanate dal comune di Fano Per il proprietario dell'appartamento di Via Dante Alighieri Un fanese di 48 anni è scattata anche la denuncia per favoreggiamento della prostituzione E per aver fornito ospitalità a persone clandestine Alla base di questa operazione ci sono stati, soprattutto per la centralissima Via Nolfi I controlli e l'identificazione di svariate persone Ed il presidio del territorio che ha messo sulle tracce gli agenti Di strani movimenti e andirivieni di uomini Soprattutto nella zona di Sassonia Per Via Dante Alighieri sostanziale anche l'apporto dei cittadini Che hanno notato da tempo strani movimenti nell'appartamento nel condominio Facoltoso il giro di clienti emersi dai controlli Numerosi uomini di ceto medio-alto provenienti per la maggior parte da Pesero Ma i controlli si sono estesi anche fuori le mura cittadine Da tempo infatti la polizia monitorava un giro di prostituzione lungo la statale Nei pressi di un distributore di benzina a Metaurilia Lì un blitz delle volanti del commissariato ha portato all'identificazione E l'allontanamento dal territorio di Fano di tre rumene intente a prostituirsi Ed è denunciato a piedi libero anche il fratello di una di esse Per affavoreggiamento della prostituzione Il quartiere di Sant'Orso è da tempo ostaggio dei ladri I residenti di una via chiedono numerosi controlli e continui da parte della polizia Via Magalotti, quartiere Sant'Orso Una strada che negli ultimi tempi sembra essere sotto il mirino dei ladri d'appartamento Negli ultimi due anni sono una decina le case visitate dai ladri Alcune anche più di una volta Ma l'apice si è toccato ultimamente Nelle ultime due settimane ben quattro famiglie hanno subito la violenza dei ladri dentro casa A pochi centimetri dal letto nel cuore della notte Un'esperienza che ti sconvolge Non tanto per ciò che possono portarti via Per la maggior parte delle volte arraffano ciò che hanno a portata di mano Soldi, oggetti piccoli, orologi Ma per la sensazione di insicurezza che ti lascia E ora gli abitanti della strada chiedono un occhio di riguardo alle forze dell'ordine Perché se lo sentono che il pericolo non è affatto passato Chiuso di là, chiuso di qua, questi vengono dentro Noi dormiamo, ci portano via tutto E la polizia fa quello che può Allora noi chiediamo che rinforzano se è possibile Qualche giro, qualche visita delle macchine Non solo al centro commerciale Oppure se no mettere delle telecamere L'ultimo furto l'altra notte Con quattro persone in casa Una finestra forzata Un balzo E si è dentro casa Sono stati lunedì notte Io per lavoro ero fuori Quindi c'erano solo mia moglie e i miei figli Che quindi adesso Insomma sono rimasti un po' anche scioccati Adesso al di là del valore Del poco che hanno anche portato via Però è la paura Certo Anche qui sono già passati in questa settimana Hanno fatto 3-4 furti Uno sta sempre con ogni rumore di notte Sta attento Però ci vorrebbe ecco Come ha detto prima il signore Un controllo in più Ma non è solo la notte Il momento propizio Se le vittime sono deboli ed indifese Come due dolcissimi nonnini Anche di giorno Senza pietà I ladri agiscono Da lei sono entrati addirittura in pieno giorno Sì in pieno giorno Dalla porta del garage Di qua Del garage Noi Arcoiamme I pagni I pagni che erano sciotti Sono entrati dentro Quindi adesso siete sempre così Sul chi va là E rimaniamo nella pagina della cronaca Andiamo a Pesaro Per un furto Nella sede della Confcommercio Ladri La notte scorsa In via delle Marche 58 lungo la statale 16 Aperte le casse forti Ha portato via un bottino Di oltre 5.000 euro Un computer E devastato due piani Dell'edificio Causando danni Per diverse migliaia di euro Un'operazione pianificata Nei minimi dettagli I ladri dopo aver oscurato Nei giorni scorsi I sensori di movimento L'altra notte Poco dopo le 21 Forzando una porta posteriore Si sono introdotti all'interno Puntando subito Alle casse forti Aperte con uno strumento Da scasso Il tutto Senza essere ripresi Dalle telecamere di videosorveglianza Che nel frattempo Erano state spostate Dai malviventi I ladri hanno agito Nei primi due piani Dell'edificio Risparmiando Il terzo Dove c'era l'amministrazione Ad accorgersi Dell'accaduto Questa mattina Alle 6.30 È stato il personale Di servizio Addetto alle pulizie Cambiamo argomento Ciclotour Delle agende rosse Per Paolo Borsellino Oggi Questo giro Ciclistico Ha fatto tappa A Fano Francesco Ricci Ivan Colombo Matteo Nelino I loro nomi Non vi dicono molto Sono un impiegato Un professionista Un venditore Gente comune Di tutti i giorni Ma che in questi giorni Per tre settimane Macineranno 2300 chilometri Sulle strade italiane Partiti da Bollate Per arrivare Il 19 luglio A Palermo Con loro portano Un'agenda rossa La stessa Che il giudice Borsellino Aveva al momento Dell'attentato E che tuttora Risulta trafugata Questa agenda Del ricordo È arrivata stamattina A Fano Assieme alla carovana Delle agende rosse Nella tappa Intermedia di ristoro Verso la città di Iesi Punto d'arrivo Di questa quinta tappa Delle agende ritrovate Ad accoglierli Sotto la tensostruttura Della Sassonia Assessore Mascarin Presidente del consiglio Del comune di Fano Rosetta Fulvi E di rappresentanti Del movimento Regionale e locale Oltre all'inno Di Mameli Eseguito dalla tromba Del maestro Caselli Tanti chilometri In nome della fatica Perché se c'è Un collegamento Che si può fare Tra la ricerca Di giustizia E legalità E tra la bicicletta E proprio la fatica Ci vuole tanta fatica Per ottenere giustizia In questo paese Come ci vuole tanta fatica Per andare in bicicletta Questo penso che sia L'elemento Che unisce E in un modo Anche abbastanza Originale Queste due cose Dopo essersi Rifocillati Accompagnati Per un po' di strada Da un nutrito Gruppo di ciclisti Dell'associazione locale Forbici E FIAB E FIAB Hanno ripreso La via Perriesi Dove li attende Un'intensa giornata Di incontri E contatti Sì Bene in bocca al lupo Perché hanno ancora Tanti chilometri Davanti a loro Rimaniamo in tema Di legalità Parliamo di Guardia di finanza Di Pesaro Che ha sequestrato Quattro unità immobiliari Quote societarie Saldi attivi Su conti correnti Bancari e postali E quote societarie Per un valore Complessivo Di un milione Di euro Ai rappresentanti Di una società E due associazioni sportive Di pallovolo femminile Di Urbino Già indagati Da due anni Per associazione Per delinquere Finalizzata A violazioni tributarie Nel maggio del 2015 Le fiamme gialle Avevano eseguito Numerose perquisizioni Nei confronti Dei tre indagati Sospettati Di aver organizzato Un articolato Sistema di evasione Delle imposte Attraverso la creazione Ad hoc Di due associazioni sportive Per beneficiare Delle agevolazioni Fiscali E procurarsi Entrate commerciali Da destinare Alla società sportiva Che gestiva Una nota Squadra militante Nel massimo Campionato Di pallovolo femminile Secondo la Guardia di Finanza Le tre società Avrebbero adottato Un sistema contabile Occulto Omesso di registrare In contabilità Le entrate realizzate E dichiarare I reali redditi Oltre ad occultare Documenti E scritture Contabili Un meccanismo Che ha consentito Di evadere Le imposte Sui redditi E l'IVA Per la somma Di un milione di euro Il decreto Di sequestro Preventivo È stato emesso Dal GIP Di Urbino E vi ritorniamo A parlare Del furto Alla Kuwait Di cui vi abbiamo Fatto vedere Le immagini Ieri Proseguono Le indagini Dei carabinieri Di Fano Coordinati Dal comandante Della stazione Di Fano Antonio Barrasso Sul furto Appunto compiuto Nella scorsa notte I danni Del distributore Di via Pertini Dalle due Casseforti Sono stati Asportati 15.000 euro Mentre Quella lasciata Sul posto Dai tecnici Della Kuwait Sono stati Recuperati 12.000 euro Ora al vaglio Degli inquirenti Ci sono le immagini Delle telecamere Che hanno Immortallato I primi attimi Dell'assalto Al distributore Andiamo sul porto Di Fano Dove questa mattina C'erano i vigili Del fuoco In azione Ma si trattava Di un'esercitazione Antincendio Interforze Con il coinvolgimento Di protezione civile Croce Rossa E appunto Vigili del fuoco Una simulazione Che periodicamente Gli uomini Della capitaneria Di porto Allestiscono Per testare La macchina Dei soccorsi E verificare Le procedure D'emergenza La simulazione Ha previsto La chiamata Al 115 Per fuoco A bordo Di un peschereggio Con feriti E l'arrivo Naturalmente Dell'autobot Sulla banchina Per lo spegnimento Delle fiamme E le immediate Procedure Di spegnimento E il trasbordo Dei feriti All'ospedale Ieri c'è stato Un consiglio comunale Molto importante Per la città Di Fano Si parlava Della piscina E dell'housing Sociale E quindi Il consiglio Lo ha votato Sentiamo Allora La votazione Ha avuto esito Positivo Diciamo così Fondo Cives È passato Ma che cosa Significa? Beh allora Innanzitutto Con grossa soddisfazione Abbiamo Siamo riusciti Ieri ad approvare Questa Importante Delivera Che Dà un po' L'avvio A un'operazione Complessa Proprio quella Che noi chiamiamo Volgarmente Operazione Cives L'operazione Cives Prevede Tra le altre cose Una realizzazione Di una nuova piscina L'ampliamento D'Antonucci Che è un RSA Attualmente Da 40 posti letto Arriviamo a 110 posti letto E il recupero Di quell'area degradata Ormai abbandonata Della Gimarra Alta Con la realizzazione Di 75 appartamenti In housing sociale Tutto questo È un'operazione Complessa Che Ha comportato anche L'intervento Di vari attori In maniera Proprio Mirata Proprio per arrivare A questo risultato Quindi Diciamo che Ci sono In ballo La fondazione Carifano Il fondo Cives Che è un po' Il regista di tutta l'operazione Il comune di Fano E la regione Marche Cosa da non sottovalutare E anche I 20-25 milioni Di investimento Che arriveranno Sulla nostra città Che garantiranno Per i prossimi tre anni Almeno 200 posti di lavoro Di chi lavora Nel settore dell'edilizia Cambiamo argomento Parliamo di musica Fra poco meno di un mese Fano diventerà La capitale Delle jazz Perché il 22 Apre i battenti L'edizione 2017 Di Fano jazz By the sea Pochi sanno Se non chi c'era Quel fortunato giorno Che i plurimilionari Coldplay Che fanno ora Concerti da 100.000 persone Sono transitati da fame Sì Chris Martin E compagnie bella Hanno suonato Al Fano jazz Ma sono tante Le band E i gruppi E i cantanti Che hanno riempito Questi 25 anni Di storia Del festival Anche questa edizione Di Fano jazz Dal 22 al 30 luglio Nella splendida Ritrovata Location Della Rocca Malatestiana Ospiterà artisti Di caratura mondiale Tra le sezioni I big Le giovani promesse E gli assolo Tra anche le collocazioni Oltre al cortile interno Della Rocca La rocchetta E il San Domenico Per gli assoli Ma la vera carta vincente Di quest'anno Che renderà La manifestazione Un po' meno avviluppata Su se stessa E poco interattiva Con la città Come era in passato E il Jazz Village Dove si vive Il prima Il durante E il dopo concerto Un vero e proprio Stargate Per il jazz Il Jazz Village È tutto gratuito Con molte attività Il workshop per bambini Al track food Alle conversazioni Al jazz and wine Agli appuntamenti A mezzanotte Con il DJ set Insomma Tutta una serie di attività Che debbono funzionare Per essere un'attrattiva Anche per la città di Fano Per avere un luogo Durante quella settimana Dove si respiri Della cultura Dove si respiri L'aria Della condivisione E fare in modo Insomma Che sia un festival Partecipato Ma di questi festival Altre città Ci vivono Dal punto di vista Turistico Naturalmente E visto il richiamo Degli artisti E le prenotazioni Da ogni parte D'Italia Si punta Decisamente Anche a Fano Sulla promozione Territoriale Abbiamo fatto Le partnership Ci sono ricadute Territoriali Con un'organizzazione Fatta molto bene Che fa pacchetti Di vacanze Che collega La buona musica Il jazz Il fascino Di questa bellissima edizione Del 25ennale Con il tartufo Le escursioni L'archeologia Il mare Tra l'altro I concerti Sulla barca Ne se ne sono due Penso che sia un unico Nell'Adriatico Quindi una serie di esperienze Che il turista Ama fare Oggi Può ricordare Unendole O meno Alla musica E sono ancora aperte Le iscrizioni Per partecipare Al campo lavoro E formazione missionaria In programma Dal 23 al 29 luglio Noi abbiamo intervistato Oggi i direttori Di questa 37esima edizione Il servizio Di Filippo Pucci Sono Marco Vitali E Giuditta Falcioni I due nuovi direttori Del 37esimo campo di lavoro E formazione missionaria In programma Dal 23 al 29 di luglio I direttori Insieme all'equipe Di sacerdoti e animatori Avranno il compito Di coordinare I circa 50 giovani Provenienti dalle varie parrocchie Della diocese di Fano Fossombrone Cagli Pergola In tre momenti Importanti E' una giornata Tipo del campo Si svolge Con la mattinata In cui c'è la raccolta Di generi alimentari A lunga conservazione Dopodiché siamo ospitati Dalla parrocchia ospitante Durante il pranzo E il pomeriggio Ci sarà il formatore Che ci parlerà Della missione E infine Dopo la messa E la cena Sempre offerta Dalla parrocchia Ci sarà un momento Di festa In cui appunto Noi del campo missionario Animeremo La serata E accogliendo anche I cittadini Della parrocchia Inizieremo Partendo dal prelato E partiremo Con dei pulmini E arriveremo Nelle varie parrocchie Ospitanti Il lunedì Toccheremo La parrocchia Di Apecchio Dopodiché Barchi Orciano Piaggio San Giorgio E infine San Pio X A Fano Oltre alle iscrizioni Ancora aperte Ai giovani Da 16 anni in su Disponibili online La macchina organizzativa Ha già scelto il tema E il formatore Di questa edizione Quest'anno affronterà Il tema Dell'Evangelii Gaudium Ripreso già Dal ritiro invernale Di quest'anno E sarà affrontato Da Don Andrea Marescotti Il vice parroco E missionario Della diocesi di Pesaro Le iscrizioni Sono ancora aperte Quindi invitiamo Tutti quelli che vogliono A interessarsi Ed è possibile Iscriversi dal sito www.ldiso.it Oppure tramite La pagina facebook Centro Missionario Fano Bene Io mi fermo qui È tutto per questa sera Grazie per essere stati Nostra compagnia L'informazione Occhio alla notizia Torna domani sera Alle 20 e 30 Ma domattina C'è Occhio ai giornali Alle 7 e 30 Con i quotidiani In edicola Grazie Buona serata A tutti voi Dopo di noi In cucina con lo chef E poi uno speciale Sulla festa Della solidarietà Di Centinarola Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti